Grazie, grazie per l'invito in questa prendita sede di questa città meravigliosa, grazie a tutti i convenuti e vengo subito alle domande che non sono domande di poco conto, quindi cercherò di affrontarle intrecciando tra loro perché c'è un richiamo evidente per queste due domande. Partiamo dalla citazione di Gramsci. Uno dei titoli più comuni scrive Gramsci è quello di ritenere naturale tutto ciò che esiste, semplicemente perché esiste. In effetti, i quaderni dei garci di Gramsci sono un grandioso tentativo di mettere sotto accusa questa affermazione che è condivisa spesso dall'uomo comune ma che è molto più spesso propalata anche da visioni filosofiche o pseudo-filosofiche. Noi siamo avvenuti a pensare che la realtà così com'è si adatta, sia qualcosa che sta di fronte a noi e al quale dobbiamo in certa misura adattarci semplicemente perché Gramsci e noi con lui dobbiamo smascherare questo modo comune di pensare. La realtà non è mai un'oggettività adatta che chiede di essere accertata e accettata. La realtà è sempre l'esito storico del nostro agire, è sempre la risultante di un processo storico ritmato dalla nostra prassi. La realtà oggettiva, istituzioni, leggi, economia e quant'altro, non esiste alla stregua della semplice natura, come spesso pensiamo. Al contrario, esiste nella forma di prodotti sociali e storici scalturenti dalla nostra prassi. Questo significa, cerco di spiegarlo nel modo più semplice possibile, anche in modo da andare incontro a quanti non sono propriamente attenti ai lavori, questo significa che proprio in ragione del fatto che questi oggetti con cui abbiamo da fare, la società, le leggi, dell'economia, sono oggetti socialmente determinati, storicamente prodotti, essi possono essere trasformati, non hanno nulla di naturale, anzi, molte volte sono completamente innaturati, chiedono di essere trasformati. Il primo modo, potremmo anche dire la condizione preliminare perché la prassi trasformatrice, tesa a ridisegnare il paesaggio sociale, tesa a trasformare la realtà in cui siamo, possa attivarsi, consiste esattamente nel tornare a restituire il senso della possibilità e della storicità al mondo del circolo. Tornare a pensare alla realtà come storia e come possibilità, la realtà come divenire sociale, non come morta presenza d'altra. Ecco, potremmo dire che questo presupposto deve a maggior ragione oggi essere valorizzato, perché stiamo connevendo ben più forse che ai tempi di Gramsci, un'epoca che voglio chiamare di mistica della necessità. Siamo sempre più propensi a ritenere che ciò che esiste sia giusto e naturale semplicemente in ragione del fatto che esiste. Un altro grande pensatore del Novecento, Bertolt Brecht, in una sua opera teatrale, così scriveva, e vi preghiamo, non pensate che sia naturale tutto ciò che esiste, semplicemente perché esiste. Non è veramente naturale ciò che accade ogni giorno. Ecco, nella nostra epoca di mistica della necessità occorre riappropriarsi di queste parole, rammemorare il pensiero di questi antichi passati pensatori. A questo propósito voglio ricordare.